Non sempre la volontà popolare coincide con quella della politica. Un esempio plastico è la nuova Pescara, scelta a maggioranza referendaria più di otto anni fa e ancora ferma a caro amico. La sensazione è che la fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore sia come la proverbiale Sora Maria. Le cose però potrebbero cambiare se lunedì 17 ottobre il Consiglio Comunale di Pescara approverà il differimento di un anno. Si può fare, dice il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, a patto che quei 12 mesi in più ci servano per fare sul serio. I comuni hanno una sola possibilità, di richiedere il rinvio al 1 gennaio 2024. Questa possibilità è data dalla stessa legge regionale, il Consiglio Comunale di Pescara se ne avverrà già nella seduta di lunedì prossimo e quindi avendo registrato un consenso quasi unanime rispetto a questa ipotesi noi approveremo la delibera con cui chiederemo alla Regione di rinviare al 1 gennaio 2024. Ma tutto questo non è sufficiente perché occorreranno analoghe delibere anche dei Consigli Comunali di Spoltore e di Montesilvano. Ovviamente ognuno risponde di ciò che fa a casa sua. Le altre ipotetiche scadenze stanno dentro un dibattito che si sta sviluppando tra i partiti, tra i gruppi consigliari anche a livello regionale perché è chiaro che lì occorrerà invece proprio una modifica radicale della legge regionale della 26 del 2018. Finora sul piano della fusione dei servizi e delle funzioni nulla è stato fatto, quindi far finta di nulla sarebbe profondamente sbagliato e neppure la Regione può far finta di nulla per cui io credo che saranno adottati provvedimenti che tengono conto del contesto complessivo dalla pandemia che c'è stata, di una crisi economico-finanziaria in cui versano tutti i comuni in questa fase di cui pure dobbiamo tenere conto e dovrà tenere conto la Regione, insomma mettiamo insieme tutto questo, ragioniamo ma con un punto di certezza su cui voglio essere chiaro e netto. Noa Pescara si fa, questo è un processo ineludibile, non credo che si possa fare in un anno ciò che non è stato fatto fino ad oggi credo però che in un anno si possa fare abbastanza, si possa cominciare a fare delle cose insieme sulle funzioni essenziali un anno e un tempo assolutamente sufficiente occorre certamente la volontà di tutte e tre le amministrazioni io non posso non registrare che negli ultimi sei mesi da parte delle due amministrazioni di Spoltore e Montesilvano c'è stato un cambio di atteggiamento.